Musica 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 Ma sarà un po' peggio Ma sarà un po' peggio Ma sarà un po' peggio E' un po' che sta da blocchiare lo stesso L'ultimo 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 Il filo spinato rappresenta la fortezza Europa, un'Europa che dopo aver impoverito i paesi del sud d'Europa ha fatto guerra in mezzo mondo, producendo quello che oggi è sotto gli occhi di tutti, ovvero milioni di persone che scappano dalle proprie terre per venire in Europa, ma che trovano muri, fili spinati, oceani, mar Mediterraneo, trovano solo morti, e noi invece riteniamo che bisogna essere un'Europa accogliente, un'Europa che costruisce un corridoio umanitario, un'Europa dei popoli, non un'Europa del bancho. La merda fosse l'oro, sai Renzi che tesoro, se la merda fosse l'oro, sai Renzi che tesoro. Matteo Renzi, ricordiamoci, è il terzo presidente autonominato, autoconvocato, sì, di questo paese dal 2011 poi.